Benvenuti in U554, facciamoci un applauso a tutti! E allora questa sera, grande festa, noi festeggiamo l'amico Matteo! Aguloni! A che tanno, su amico mio! E poi, e poi, abbiamo un compleanno bellissimo, e Luigia! Aguloni, 59 anni! Quindi, questa sera si canta e si balla, quindi vi prego di essere partecipi. Buon appetito e buon divertimento! Applauso! Buon appetito e buon appetito! 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 Buon appetito!